Atomine Atomine è un twisted shooter con visuale dall'alto ed elementi roguelite, tra cui l'avanzamento procedurale e la sconfitta definitiva in caso di Game Over. Il titolo è stato sviluppato dal piccolo team indipendente Broken Arms Games, uno studio italo-australiano proveniente dal mondo mobile. Il gioco, sullo stile cinematografico di drone ed hackers, trasforma le porzioni di codice in intriganti immagini 3D, trasportando il giocatore in un colorato mondo animato da worm e firewall. Manovriamo un virus diffuso con lo scopo di violare diversi livelli di sicurezza di specifici sistemi informatici. La corsa alla successiva backdoor viene reiterata su 13 livelli, che ci separano dallo scontro finale. Ogni 3 stage affrontiamo anche una boss fight. Atomine ripercore la vicenda di Stuxnet, un malware creato dal governo degli Stati Uniti per spiare, controllare e danneggiare i sistemi industriali iraniani. Alcune scelte stilistiche del videogame riprendono infatti l'immagine simbolica di Stuxnet, un fondo blu con stringhe di testo generati a 45 gradi, contenenti alcune parole in color porpora. Questo contesto in particolare si materializza quando la nostra presenza viene rilevata da un firewall, al che l'unica possibilità di evitare le contromosse del sistema risiede nella corretta espletazione di Quick Time Event, una scelta carina che mescola estetica e meccaniche di gioco. Il nostro scopo è quello di eliminare tutti i nemici presenti nel livello, sì da accedere alla backdoor che ci conduce allo stage successivo. Siamo però lontani dalle scariche di adrenalina di prove spesso caotiche che altri esponenti del genere ci offrono, vedi Resogun o Helldivers. Questo perché gli sviluppatori hanno preferito puntare su un pizzico di strategia, lavorando più sul design dei livelli e sulla varietà delle routine nemiche, piuttosto che infarcire gli scenari di copiose file avversarie. Una scelta simile a quanto visto in Neon Chrome. Il movimento e la direzione dello sparo sono caratterizzati da input indipendenti. Con i tasti WASD della tastiera o con la levetta analogica sinistra del pad manovriamo il personaggio. Con il mouse o con lo stick sinistro del pad selezioniamo l'angolo di tiro. Il tasto sinistro del mouse è adibito all'attacco, mentre sul pad basta scegliere la direzione poiché il colpo parte automaticamente. Diversamente da altri generi, i dual stick shooter si basano principalmente sulla reattività e sulla coordinazione occhio-mano. Non si ragiona molto consciamente pianificando gli attacchi se non nelle boss fight, dove invece occorre studiare attentamente le routine. Sono quindi fondamentali la memoria fotografica e le terminazioni nervose degli arti superiori per riuscire ad avere la meglio sulla calca. In Atomine invece il ritmo, sebbene non lento, non raggiunge la frenesia tradizionale, permettendo un approccio più accorto. Si possono ad esempio in talune circostanze sfruttare le coperture per eliminare uno a uno gli avversari attendendo l'avanzata del nemico. Così facendo però si perde il prezioso bonus delle uccisioni in serie. Abbattere le difese degli stage permette di raccogliere punti esperienza sotto forma di quadratini verdi che aggiorneranno la versione del nostro worm e ogni tanto dei piccoli triangolini del medesimo colore per ripristinare l'energia vitale. Aggiornare la versione del virus, quindi salire di livello, ci permette di scegliere tra quattro perk proposti casualmente da una rosa abbastanza ampia, tra cui una barra energetica più ampia e una maggiore velocità di movimento. Accedendo evocative zone oscure presenti in ogni livello si potranno potenziare le capacità del nostro personaggio agendo nello specifico sul tipo di arma, cadenza di fuoco, gittata e mod extra come proiettili perforanti. La varietà di rivali è buona, ci sono quelli più veloci ma dotati di scarsa resistenza, quelli esplosivi, quelli che attaccano ad area, quelli dotati di scudo protettivo ed equipaggiati con proiettili di rimbalzo. Se si perde si deve ricominciare da capo la partita, tuttavia non essendo un titolo punitivo non occorreranno molte ore per fare la mano con le meccaniche. Queste sono tutto sommato tradizionali, mancano ad esempio le armi secondarie. È presente solo una campagna principale, si sente quindi la mancanza di contenuti aggiuntivi come le sfide del giorno o della settimana o del mese, in stile Residesan o Shattered Planet. L'approccio procedurale ha comunque il grande pregio di metterci di fronte a sfide sempre nuove, cosicché, finita la prima run, avremo comunque il piacere di sbloccare versioni diverse del virus e ulteriori equipaggiamenti. Senza dimenticare che ci sono accessi segreti assolutamente stocastici da scoprire, solo con ulteriori partite. Insomma, se siete dei maniaci degli achievement potreste essere molto propensi a continuare l'esplorazione di Atomine anche dopo l'epilogo. La veste grafica minimalista mi ha catturato completamente. Le forme sono eleganti e stilizzate, ma è l'accostamento dei colori e il forte contrasto tra i proiettili e i fondali chiari ad essere di forte impatto. Sono di grande effetto anche le trasparenze e le distorsioni. Anche i modelli ostili sono molto curati e diversificati. È un po' troppo semplice invece il concept del nostro virus. La versione attuale è priva di cali di frame. Il gioco gira in maniera fluida e non sono mai in corso in crash. Ci sono buone scelte di game design, tra tutte ho apprezzato molto le pareti dello stage che prendevano forma solo una volta che mi ci avvicinavo. Un effetto che ricorda molto il camminare nel buio con scarsa illuminazione. L'altra situazione interessante si concretizza quando viene rilevata la nostra intrusione. Se non superiamo i quick time event, il firewall attiva così delle contromosse. Ad esempio, riduce lo zoom o altera lo spettro dei colori. Le opzioni grafiche non sono molte, possiamo intervenire su un paio di filtri estetici, selezionare o meno il V-Sync, scegliere la qualità delle texture e attivare o meno l'anti-aliasing. L'effettistica richiama i bei tempi delle sale giochi. I proiettili del laser blu portano alla mente i classici blaster, mentre il suono del fascio del laser verde è un po' troppo fastidioso a lungo andare. I tempi musicali di matrice elettronica hanno il pregio di mantenere alto il ritmo e l'attenzione. Forse, però, una maggiore varietà non avrebbe guastato. Atomine non è un Twistic Shooter adrenalinico. Qui non troverete ondate copiose di nemici, ma sarete posti di neanzi un approccio leggermente più strategico. Sebbene l'intelligenza artificiale mette in piedi pattern diversificati e una sfida appagante, il titolo non propone nulla di innovativo. Le meccaniche sono buone, ma occorrono maggiori contenuti. Non guasterebbe un livello di difficoltà ancora più alto per soleticare il gusto delle sfide estreme. Ciò che mi ha colpito maggiormente sono state la veste estetica e alcune scelte di game design. Per essere una prima prova in ambiente PC, il team si è dimostrato molto capace e soprattutto disponibile nell'aggiornamento post-lancio della sua creatura, l'ultimo dei quali ha incluso, tra le altre cose, la lingua italiana e quella russa per l'interfaccia di gioco. Grazie! 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 Grazie!